Esattamente 33 anni fa il Napoli ha vinto il suo ultimo scudetto con Diego Armando Maradona. I nostri papà, i nostri nonni, i nostri zii, i nostri bisnonni anche si ricorderanno di quel momento. Unico. Il Napoli vincere un campionato difficile perché stavano squadre a quei tempi davvero con giocatori indimenticabili come ad esempio la Fiorentina con Socrates, l'Udinese con Zico, il Milan di Sacchi, la Juventus di Paolo Rossi, di Marco Tardelli, l'Inter di Romeninghe, la Roma di Prusso. Diciamo, ce ne sono tanti di scuole forti ce n'erano. Oggi il Napoli, ad oggi, 4 maggio, vince di nuovo lo scudetto, dopo 33 anni. Ma stavolta non ha avuto un'inseguitrice, delle inseguitrici anche, in plurale. È stata, diciamo, fortunata su questo perché non ha avuto una squadra o squadre che, diciamo, la tenevano alla pari dello scudetto. Invece, il Napoli si è dimostrato forte sempre, in tutte le partite, per tutta la stagione, ha dimostrato di essere una grandissima squadra e di dare tutto. Infatti, lo scudetto è stato meritatamente vinto perché il Napoli se l'è giocata, se l'è giocata tutte le partite sul campo, con l'anima. Cosa che invece alle altre squadre è mancata, un po' pure per sfortuna, vedendo l'Inter, che per me era una squadra molto temibile perché l'Inter con Lukaku, che secondo me è un attaccante che quest'anno è stato sfortunato per me, non ha fatto delle ottime prestazioni, però ricordiamo che l'Inter ha avuto anche degli infortunati, ricordiamo che la Juve c'è stato pure un po' di inceppo con le plusvalenze, con le penalizzazioni, non si sono tanto trovati, ma comunque questo non c'è da dire che il Napoli ha vinto lo scudetto meritatamente perché l'ha vinto in campo, l'ha vinto meritatamente grazie a Napoli. Le altre squadre hanno mollato per questi motivi qui, ma che sono pochi da dire, ce ne sanno pochi, che questo purtroppo fanno parte del calcio. Ebbè, io posso quindi raccontarvi la mia sensazione da napoletano. Per me è soprattutto una grandissima emozione perché i ragazzi come me, che hanno 15 anni, che vedono per la prima volta che Napoli vince uno scudetto, è davvero un'emozione unica. E di questo sono veramente molto fiero della squadra per cui dico. Io voglio pure raccontarvi della mia esperienza, vi racconterò la mia esperienza per tutta la stagione, perché mi ricordo che comunque a inizio stagione, a inizio precampionato, io che ero in ritiro a Casteldisangolo, rilasciai delle interviste anche e poi vi dirò pure quello che ho detto nelle interviste su Calcio Napoli 24 in Campania News. E poi vi racconterò come ho festeggiato lo scudetto del Napoli. Vabbè, comunque voglio dire che partiamo subito dall'intervista che ho rilasciato. Allora, l'intervista che ho rilasciato a Casteldisangolo, soprattutto a Calcio Napoli 24 dove, diciamo, ci fu una lunga intervista di 10-15 minuti su Calcio Napoli e dove io dissi che mi crescero delle domande sui zielischi, sul futuro di vari calciatori, mi chiesono di Kvaraxelia. Kvaraxelia, inoltre, mi hanno fatto anche i complimenti per come dicevo il nome, proprio Kvaraxelia, il nome è proprio per bene, lo dicevo. Però comunque, a parte tutto quello, vissi che Kvaraxelia era già un giocatore di talento, già si era fatto notare il ritiro al di Maro, com'era, e infatti si era visto che era un giocatore davvero da tenere d'occhio. Poi mi chiesero sul rinnovo di Mertens. Ad esempio, lì a Casteldisangolo vi racconto che molti tifosi, anzi, credo tutti quanti tifosi, erano contro, in quel momento, contro la società per le mancate, per i mancati acquisti, però quelli là di talento, come ad esempio, però di talento quelli là, nel senso conosciuti in modo internazionale, come ad esempio Paolo Di Bala, come Keylor Navas, come ad esempio anche Gerard Delofeu. Questi calciatori, ad esempio, la gente di Napoli si aspettava. E invece Napoli e il vero. E infatti i tifosi lì in ritiro hanno criticato De Laurentiis, giustamente, l'hanno preso di mira, come sempre. Allora, in quel momento infatti avevano insultato pure per l'acquisto di Kim, che dicevano, avevano fatto pure uno striscione contro Kim, perché in quel momento, perché era un coreano che giocava a pallone, forse per questo non è stato criticato, è stato preso in giro dai tifosi. Secondo me, invece io, una cosa dove non sono stato tanto d'accordo quando mi hanno chiesto sul rinnovo di Mertens, ad esempio, io avevo detto che De Laurentiis aveva detto la verità. Io mi ero stato, quindi mi ero stato, mi hanno messo nella parte di De Laurentiis. Perché questo? Perché Mertens, giustamente, ha aumentato il suo stipendio, perché giustamente sta da molto tempo a Napoli, voleva qualcosa in più, perché giustamente per stare per otto anni a Napoli deve avere qualcosa in più, perché giustamente lui, che è stato una bandiera per il Napoli, che giocava titolare, ti faceva gol, è stato l'attaccante con più gol nella storia del Napoli, quindi c'è questo, c'è da dire, e quindi Mertens, assolutamente, ma proprio assolutamente, lì, diciamo, meritava qualcosina in più. Però, giustamente bisogna fare caso all'età, perché? Mertens, ragazzi, 34 anni, ok, però, vedendo gli importuni che ha avuto l'anno scorso, non è stato sempre disponibile Mertens al Napoli, era un giocatore davvero fortissimo, però Mertens, ragazzi, al Napoli, nell'ultimo anno, non era sempre in forma, e quindi questo era il fatto, che De Laurentiis, quindi, ha offerto lo stesso il rinnovo di contratto per uno o due anni, però, poi c'è stato il rifiuto di Mertens, quindi io gli ho dato nettamente ragione ad Aurelio De Laurentiis, perché in quel momento ha meritato di fare quella proposta. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Hanno fatto pure una domanda, poi, sul rinnovo di Mertens, dove, cosa ne pensavo, in quel momento. Io mi sono messo un po' alla parte contro alcuni tifosi del Napoli, perché io mi ero messo dalla parte del presidente, perché, è vero, Mertens è stato da otto anni a Napoli, era una bandiera, l'attaccante con più gol, era fatto nella storia del Napoli, però, c'è sempre, però, perché, c'è da dire che Mertens, ragazzi, l'anno scorso, non era in forma, ha fatto poche partite, poi, poi ad oggi ha 34 anni, non ti può risolvere, non ti può fare tanto, però, quelle partite, dove le gioca, sì, però, non sempre lo puoi avere disponibile, ad oggi, di Mertens, io, così la penso, quindi, per me è stato giusto, fare questa rivoluzione, tutta la squadra, di farla ringiovanile, come avete visto, questo infatti, mi è piaciuto davvero tanto, mi ha colpito, però, voglio confessare, che, io, nettamente, non mi aspettavo, che il Napoli, diciamo, vincesse lo scudetto, quest'anno, come tutti, i tifosi del Napoli, non me l'aspettavo, manco io, questo è un fatto, davvero, molto, diciamo, puro, perché, ad oggi, con la vittoria, del scudetto del Napoli, si, ancora oggi, quindi, si dice, che nel calcio, può succedere di tutto, che, anche quelle squadre, che, vengono sottoalutate, da molte persone, da molte amanti del calcio, poi vengono, diciamo, fanno il devasto, per tutto il, il campionato, per tutta la stagione, in tutte le competizioni, soprattutto, quindi, questo davvero è stato, una vittoria del Napoli, davvero, molto importante, con un pubblico, davvero straordinario, come la gente di Napoli, che, festeggia, ancora oggi, davvero, una sensazione unica, tra l'altro, tengo pure, la tromba qui, vedete, qua pure, la striscia azzurra, del Napoli, davvero, è un'emozione unica, io ve lo posso dire, sperando che adesso, questo, da oggi, da quest'anno, che il Napoli, è dentro lo sudetto, negli anni prossimi, questo deve essere, l'inizio, di trionfi, perché, il Napoli deve cominciare, a trionfare adesso, l'anno prossimo, si deve, di puntare allo scudetto, si deve pure, puntare alla Champions, perché il Napoli, adesso, deve iniziare a vincere, deve iniziare a vincere, perché adesso, si deve ripartire, da questa vittoria, dello scudetto, si deve ripartire, con questo, poi farò, faccio vedere, un po' di clip, che, ho fatto, mentre festeggiavo, lo scudetto del Napoli, eccolo qui, che festeggiavo, qui in hotel, perché io, in quel momento, stavo in gita, in una gita scolastica, e festeggia, infatti, in hotel, dove vedi, la partita, in hotel, è stato pure lì, molto bello, perché tutti quanti, a festeggiare, con le magliette del Napoli, bandiere, charte, c'è da dire, che anche, in quel momento, anche se non stavamo, a Napoli, è stata comunque, un'esperienza stupenda, perché, abbiamo portato, un po' di Napoli, anche in gita scolastica, quindi, davvero, è stata, una bella, una bella festa, e, quindi, questo è, poi, tornato a casa, dopo la gita, guardammo la partita, di Napoli-Fiorentina, che, si è fatta ieri, io questo video, lo sto registrando, l'8 maggio, di lunedì, guardammo la partita, comunque, con la mia famiglia, la partita del Napoli, poi, appena il Napoli, vince la partita, andammo a festeggiare, per tutta la città, infatti, come ben vedete, tengo pure, la tromba, e, questo è il risultato, ragazzi, quindi, sono molto felice, che il Napoli ha vinto, questo scudetto, io, per questo, vi saluto, a tutti quanti, mi mando un abbraccione, da Marco, Fox 2, aspetta, mi rimando un abbraccione, da Marco Fox 2, non ha tanto senso, però, un abbraccione, da Marco Fox 2, adesso lo dico, bene, e, niente, comunque, mi raccomando, iscrivetevi al canale, come sempre vi dico, ci sarà sempre un video, o una live, al mese, mi raccomando, non perdetevi, quindi, questi video, un abbraccione, da Marco, un'altra volta, da Marco Fox 2, bella ragazzi, bella campione, un abbraccione, grazie,